Sensibilizzare la popolazione sul tema della donazione di plasma e contribuire a rendere il nostro paese autosufficiente dal punto di vista della disponibilità di farmaci plasma derivati. Sono questi gli obiettivi principali dell'incontro al Molise che dona, che si è tenuto a Campobasso ed è stato organizzato in collaborazione con l'accordo interregionale Planet e con il supporto di Takeda. In questa occasione abbiamo avuto il piacere di parlare con la dottoressa Matilde Caruso, direttrice dell'Unità Operativa Complessa di Medicina Trasfusionale ASREM SRC Molise. Allora dottoressa, qual è la situazione della donazione di plasma in Molise? Per quanto riguarda le donazioni in regione Molise siamo una regione autosufficiente per quanto riguarda la raccolta di globuli rossi, ma ancora indietro per quanto riguarda la raccolta di plasma da destinare alla produzione di farmaci plasma derivati. Sia il 2023 che il 2024 mostrano dei segni di ripresa. Contiamo di finire alla fine dell'anno con la raccolta di circa 4.000 kg, che era quanto c'eravamo previsti di raccogliere. Per il 2025 le previsioni e anche l'apertura di nuovi centri di raccolta ci fanno immaginare che possiamo implementare la raccolta di plasma avvicinandosi sempre di più a quanto c'è richiesto dal programma del fabbisogno annuale per la produzione di plasma derivati. Tocca a noi sensibilizzare i donatori già così presenti per la donazione di sangue intero verso la donazione del plasma. Qual è il destino del plasma e che cosa serve? Il plasma che raccogliamo e che spediamo segue un doppio binario. Da una parte e per la maggior parte è destinato alla lavorazione per la produzione di farmaci plasma derivati come i due prodotti principali driver, cioè l'albumina e le monoglobuline. Un'altra parte di plasma che noi denominiamo plasma da inattivazione virale viene lavorato e ci viene restituito il cosiddetto plasma grade, quindi un plasma ad alta purificazione e sicurezza che noi diamo ai pazienti in caso per esempio di importanti emorragie, ustioni o in caso di una terapia particolare che si chiama appunto aferesi terapeutica. Quindi segue un doppio campione. La necessità fondamentale in termini di fabbisogno regionale e nazionale è quello di garantire la produzione di plasma derivati. Il Molise per esempio ha un'autonomia allo stato attuale di plasma, quindi non di farmaci plasma derivati, di circa quattro anni e mezzo, quindi sotto quel fronte siamo più tranquilli. Cosa deve spingere le persone alla donazione? Per tanto tempo abbiamo pensato la sensibilità e la volontà di donare e adesso stiamo lavorando anche su un altro aspetto un po' più pragmatico che è quello di far comprendere che quello che non diamo oggi in termini di plasma ci mancherà domani se noi o chiunque di noi può averne bisogno. E poi un po' come il focus di questo convegno non dovremmo nemmeno immaginare che ci possa essere bisogno di un farmaco, di un bicchiere d'acqua, di qualsiasi cosa e che questa non sia disponibile. Quindi è su questo che dobbiamo lavorare, sul dono inteso proprio come capacità di dare senza neanche chiedersi perché. Grazie.